Sei dai un po' di miei amici, anche io secondo me ho questa visione, secondo me sei il rapper della pace. Ok. Non so perché tanti miei amici hanno, quando parliamo di te diciamo magari esce la canzone tutto, facciamo i classi, classiche commentate da bar, magari è sempre bravo, sempre super positivo, sempre, secondo me, considerazione personale, secondo me spacca questo, cioè sei visto, ovviamente tu non hai il percepito di te stesso perché sei te stesso, per cui io ti guardo dall'esterno e magari parlando con i miei amici tutti ti vedono super, sono tutti super presi bene e ti dicono tutti ah cazzo bravo Gali, comunque porta sempre un bel messaggio, cioè secondo me spacca e anche se non lo dice mani questa aura di… Ma diciamo che ho avuto un passato difficile, so quanto la pace può aiutare, so che la vita è difficile, so che anche se non hai un passato difficile poi ci sono delle persone che incontrano dei momenti di difficoltà più avanti e comunque io mi immagino sempre, cioè mi piace pensare a un mondo in pace e credo che sia l'unica soluzione, che è quello che segretamente vogliono tutti e semplicemente ci penso veramente spesso, è un grosso desiderio quindi quando mi muovo questa cosa può uscire. Eh bro, cioè esce anche se non lo dice. Ho capito, ho vissuto anche dei momenti di grande pace, so quanto è bello quindi mi piacerebbe che ci fosse sempre però è un po' difficile, non troppo difficile. Ciao! Ciao!